Il Comune di Pescara aderisce alla Carta dei Diritti della Bambina. Vogliamo spiegare questa iniziativa, come è nata questa decisione e cos'è la Carta della Bambina? La Carta dei Diritti della Bambina è un documento che è stato presentato da tutte le sezioni FIDAPA italiane per poter ribadire quali siano i diritti delle bambine che vanno tutelati, appoggiati e assecondati nel corso della sua crescita e della sua vita. Nel 1989 l'ONU approvò questa Carta dei Diritti della Bambina e la FIDAPA, che l'ha recepita nel 2016 con una riunione di tutte le presidenti nazionali, ha voluto promuovere in tutti i comuni principali in cui esiste una o più sezioni FIDAPA, ha voluto promuovere questa Carta per poterla portare anche ai comuni limitrofi a conoscenza di tutte le amministrazioni comunali che adottandola la rendono molto più incisiva, importante e permettono anche l'applicazione nelle scuole, nelle comunità di tutte quelle regole che possono portare i ragazzi, le ragazze a conoscenza di quelli che sono i diritti di una bambina e poter promuovere una coscienza migliore che è alla base della diminuzione di tanti atti di violenza che oggi stanno aumentando.